buongiorno amici e amiche di nova news 24 beatrice luzzi rischia di dover abbandonare nuovamente la casa del grande fratello ieri un attacco nei confronti della luzzi subito non solo da varrese nello scontro diretto ma anche da alfonso signorini ovviamente molti personaggi famosi si scagliano contro signorini il programma e vanno ad appoggiare quella che è beatrice nella casa anche paolo contro beatrice se una persona orribile nessuno ti vuole qua dentro parole forse troppo forti il macellai ha poi sostenuto che massimiliano non è una persona verbalmente aggressiva ma anzi lo sarebbe lei e quindi è stato trovato il modo per cercare di far fuori beatrice beatrice che resiste ma a questo punto tutti quanti dicono a beatrice come consiglio di uscire dal grande fratello se per beatrice quella di ieri sera è stata forse la peggior puntata del grande fratello sui social quindi scorrono fiumi di supporto empatia e stima per la concorrente e non solo nei nuovi sendaggi proprio beatrice vola ieri un volto alex belli un ex volto del grande fratello ha detto la sua su quello che è successo al grande fratello il man si è augurato l'uscita di beatrice per il bene ovviamente dell'attrice sua collega ovviamente amici di nova news 24 dalla parte di chi state di varrese della produzione che ormai ovviamente si è scagliata contro beatrice o siete dalla parte della regina di questo reality ditecelo intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24